Sono Augusto Gambuzzi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena. La mia partecipazione a questo convegno riguarda la presentazione del sistema della domotica Conex, che è un sistema aperto che può essere programmato da tutti. Riteniamo molto importante la presenza della domotica negli edifici, soprattutto perché può alzare il livello di soddisfacimento dei requisiti dell'avitare. Essendo legato ad un progetto integrato che coinvolge sia le competenze degli ingegneri informatici che quella degli impiantisti, è bene che tutta questa procedura sia codificata per avere un protocollo attendibile. Per quanto ci riguarda, come ingegneri, siamo molto attenti a questo tipo di progettazione integrata, con le due commissioni, che sono la commissione informatica e la commissione impianti d'energia, che si occupano di queste cose. È possibile sfruttare la ricostruzione del post terremoto e avere i finanziamenti per poter applicare anche queste nuove tecnologie.